Pitti Uomo prende il via nel segno della rinascita. Firenze si alza il separio sulla centoduesima edizione dedicata alla moda maschile. Un grande ritorno fatto di eventi live, sfilate e ospiti internazionali senza dimenticare di lanciare messaggi di pace. Parole chiave, stile e sostenibilità con una nuova consapevolezza. Questo zaino per essere prodotto emette 16 kg di CO2. Se tu compri lo zaino e vuoi compensare la CO2 emessa, potresti fare ad esempio 320 km in meno in auto. Mediamente 320 km in auto sono 16 kg di CO2. Quindi l'ambiente ne è felice perché hai compensato anche un po' la tua coscienza.